Si chiama Severina Pisano, ha 80 anni, ciao Severina, ben trovata, ha 80 anni e da 57 anni abita in un piccolo appartamento al Pigneto a Roma di 38 metri quadri, quindi questo piccolo appartamento è la tua vita Severina, sei vissuto dentro? Io ho lo sfratto però per finita allocazione, perché pago tutto, però sono 10 anni che ho lo sfratto, vivi da 10 anni con lo sfratto, hai avuto le proroghe? Sì, le proroghe, facevano le proroghe, ma non le hanno fatte più, mese per mese ti rimandano, adesso sono venuti il 4 dicembre, l'ufficiale giudiziario e la polizia e mi hanno lasciato fino all'8 febbraio, all'8 febbraio io dove vado se mi cacciono via? Mi dici una cosa, tu di cosa vivi Severina, di una pensione? Io ho 600 euro al mese di mio marito morto, di reversibilità, e ho mio figlio di 54 anni e disoccupato che sta con me Quindi tu hai una pensione di reversibilità, quanto spendi di affitto? Io da affitto spendo quasi sui 300 euro, perché di pigione pago poco perché sono 300 mila lire e il contratto vecchio, però pago l'acqua, pago l'occupazione, pago l'istate e tutto quanto Dimmi una cosa, scusami, se ti sfrattano che succede? Non lo so dove vado Hai provato a ragionare se trovavi un'altra casa a questi prezzi? Come faccio? Chi me la dà un'altra casa a quel prezzo là? Due, trecento euro? Io la vorrei in una casetta, la camera e cucina per me e mio figlio, ma chi te la dà a quel prezzo? Chi me la dà un'altra casa a quel prezzo? Grazie.